Siamo in compagnia del signor Giacomo Capacci, noto handler, addestratore e allevatore. Buonasera. Buonasera. Quali sono state le vittorie di oggi? Oggi abbiamo vinto la prima classe dei puleri di un anno, con un cavallo allevato in Qatar, della Shakab, e poi abbiamo vinto una categoria dei tre anni, sempre dei puleri di tre anni, un cavallo allevato in Inghilterra, ma di proprietà di una scuderia di Anna Ifat in Arabia Saudita. E poi la vittoria più bella è stata quella dello stallone, dei stalloni giovani, con Farud al-Shakab, nato in Qatar, comunque sia di un figlio di un cavallo che abbiamo noi in azienda, che è due volte campione del mondo, un cavallo molto importante, a cui tenevamo per la maggiore che vincesse. E questi sono i trofei che lei ha vinto? Sì, quelli di oggi, sì. Numerosi, eh? Soddisfatto? Abbastanza, abbastanza.